Come abbraccio beneagurante ai nuovi iscritti per l'anno scolastico in corso ha avuto luogo questa mattina la consueta giornata di trekking con la denominazione ufficiale di giornata ecologica dell'accoglienza. L'iniziativa didattica propria della disciplina dell'educazione fisica ma per la sua particolare natura attacco a involgere contemporaneamente energie e attività multidisciplinari rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze che esordiscono quest'anno in un percorso didattico così diverso ed impegnativo rispetto a quelli degli anni passati perché proprio del passaggio tra l'infanzia e l'età adulta in quella delicata stagione di immaturazione e di transizione che è l'adolescenza un invito sereno e gioioso a partecipare con impegno passione spirito di gruppo e gioia di vivere. Strutturati dalle precedenti esperienze i docenti hanno saputo offrire e coinvolgere i ragazzi nello scenario suggestivo della costa cilentana per il tratto compreso tra la baia di Trentova e la località lago di Castellabate tra le esplosioni di verde della macchia mediterranea e le regolari ed ordinate distese coltivate. Il sentiero ha proposto una passeggiata tonificante ed impegnativa, quanto mai adatta ad assicondare l'esuberanza fisica degli alunni e a liberarne tutte le energie migliori. Il professor Sambroia, docente di religione, ha assunto il ruolo di fotografo illustrando la giornata con una successione di scatti molto significativi. Valutare la ricchezza di suggestioni e di emozioni che gli scenari naturali di questo territorio sono in grado di proporre al turista ed all'escursionista ha contribuito a rinsaldare nei ragazzi la coscienza di un patrimonio da proteggere e da tramandare. La comitiva ha potuto beneficiare delle competenze delle professoresse di educazione fisica e della tutela di una squadra di primo soccorso del gruppo della Croce Rossa Italiana di Agropoli, a seguito del gentile interessamento del signor Antonio Ponzo. I docenti Gaetano Carola e Martina Conte, attualmente in pensione, ma esperti nella pratica del trekking e della conoscenza dei luoghi, hanno contribuito con una fattiva presenza allo svolgersi dell'evento.